Sesta edizione del congresso fee only siamo nel 2016 e la professione sta cambiando come cambierà secondo lei qual è il futuro del consulente indipendente? Credo e mi auguro che sia un futuro di grande sviluppo e di grande crescita io lavoro a fianco alla consulenza finanziaria perché faccio gestione oggi fare gestione è sempre più difficile rendimenti sempre più bassi volatilità quindi rischio quindi paura del cliente sempre più elevata e qui senza un servizio finanziario una consulenza finanziaria migliorata che non spinge prodotti ma che si occupa del cliente è una chiave di salvezza e di sostenibilità per tutto il settore quindi che crescano che si sviluppino e aiutiamoli a fare così. Secondo lei giornate come questa in cui ci si ritrova e ci si confronta sono utili per far progredire la professione? Soprattutto a quelli che alla professione stanno avvicinando oggi ci sono circa 600 persone di cui 200 non sono promotori finanziari consulenti finanziari indipendenti ma promotori dipendenti di banche, private banker, persone che si avvicinano al settore dalla professione tradizionale dai canali di distribuzione tradizionali e che si avvicinano a un mondo di cui possono veramente apprezzare il potenziale perché obiettivamente fino ad oggi la vita nei canali tradizionali non è stata difficile e casomai è stata difficile la vita per gli indipendenti andiamo verso un futuro dove forse la relazione si inverte. Grazie. Grazie.